bella vecchi trapani e bentornati qui sul canale grazie, siamo tornati oggi con un nuovo episodio del rotto di Giovanni ultima vita 6 a 1 e oggi cercheremo di replicarci perchè questo c'è soltanto oro non ha oro rari, non è una squadra di merda, non sottovalutare questo stato perchè ogni volta che la sottovalutare ci abbiamo perso come quella da Corea come quella che era tutt'imunibida spagnola, sai che cazzo era e ovviamente stadion, vabbè dai mettio mio questo giocatore non mi fa lo che è puro faccio a banchiglios si comincia balsuoli mamma mia skiller grande skiller già che è partito così a maniera se mi ci sono stati a compiegare la qualificazione uomini mi dimentico mi dimentico bainz 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 che cazzo e sul testo vado a guardarli intanto bainz neanchevo ma non si vengono bainz 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 cazzo bainz 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 corpore bainz 3 3 3 4 4 5 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 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 6 10 10 9 10 10 10 10 10 11 20 21 12 21 21 21 22 22 21 ragione a non passarlo DISTRUCTION MAI LA MIRA! MAI LA MIRA! MAI LA MIRA! infatti si la MIRA in partita poi si parlo dalla vita MA MAI LA MIRA! la cia patata qua che crudo e' bello questo grave a Roma rosso! oh righi doppio giallo rosso ciao divok ciao divok ma non ho il cazzo ciao ahahahahahahaha metti la mano qua vedi? su questo gioca lui ho capito ma senti che hai spostato la mano senti non le lavavi la mano io non ti dicevo niente ma perchè vedi tu cammino che cazzo ho io non ho capito senti non le lavavi la mano io non ti dicevo un cazzo ma se vuoi ti vedi in cazzo comunque ok meccalla che meccalla che meccalla che non mi fa il fallo non ciò mi ha detto non ti voglio che fanno oggi io lo dico porco tuoi porco che cazzo ti riti Cristo Dio ma perchè non favo il solito schema tu devi supera tutti per quale motivo che cazzo ti riti porco tuoi che stai a farosicà ma che cazzo vuoi da me ma non è che colpa mia come un laser goal eh si perchè fai il cazzone cazzine ma non mi pare invece porco 2 porco quanti di concentrazione bastava porco cane porco non parlare con me della concentrazione ma te vaffanculo concentradissimo ciao